Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno. Oggi è l'11 febbraio, ben ritrovati, siamo a giovedì, siamo dunque nel cuore di questa settimana, una settimana che dal punto di vista meteo, come vedremo tra poco, ci interessa particolarmente, ma con ordine, prima di guardare i giornali e sfogliare le pagine che vi abbiamo selezionato con i titoli dei quotidiani, andiamo a vedere il santo. Oggi non è un santo, oggi è una ricorrenza. La Beata Vergine Maria di Lourdes, che a quattro anni dalla proclamazione dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine, vide la fanciulla Santa Maria Bernadette Subirò, vide nella grotta di Massabielle, tra i monti pirenei sulla Liva del Gave. Insomma, una storia molto bella e una ricorrenza oggi molto bella. Tra l'altro oggi è anche la giornata del malato, quindi salutiamo tutti i nostri telespettatori che in qualche modo non stanno bene. Allora, 7.16 l'alba, 17.34 il tramonto. E adesso siamo arrivati all'appuntamento con il Meteo. Meteo che questa mattina facciamo in modo diverso, perché ci colleghiamo con Marco Lazzeri, che è il meteorologo della protezione civile delle Marche. Buongiorno Lazzeri e grazie di aver accettato il nostro invito. Invito a parlare di che cosa? Di tempo, di tempo, nei prossimi giorni e soprattutto se e cosa dicono le carte meteorologiche per quanto riguarda la nostra regione e se arriverà questa neve prevista per il fine settimana. Innanzitutto buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, pare che ci sia questo arrego di aria molto fredda dal versante balcanico, aria che ha un'origine addirittura quasi asiatica perché viene dalla Russia e che quindi farà abbassare notevolmente le temperature già dalla giornata a dalla serata di domani. Per la giornata di oggi avremo comunque ancora un cielo parzialmente nuvoloso con maggiore nuvolosità nella seconda parte della giornata quando avremo anche delle precipitazioni soprattutto sulla fascia pollinare e montana che però ancora saranno nevose soltanto al di sopra dei 1500 metri. Poi nella giornata di domani il cielo sarà regolarmente nuvoloso e comincerà appunto questo arrivo di aria molto fresca quindi le temperature minime si abbasseranno anche di diversi gradi e così come le masse. Ci saranno delle precipitazioni nella seconda parte della giornata dalla serata a tarta serata nottata che saranno nevose a quote basso pollinari. Ancora sulla costa non dovremo avere precipitazioni nevose per la nottata di domani. Poi dalla mattinata di sabato avremo il cielo nuvoloso con delle precipitazioni che saranno a carattere intermittente ma saranno nevose fino a quote pianeggianti. Quindi sicuramente fino ai 100 metri sicuramente nevose. Poi al di sotto dovremo avere delle precipitazioni a carattere nevoso soprattutto nelle ore centrali della mattinata. Bene grazie Lazzari è stato molto chiaro ovviamente nulla a che vedere con il Burian tutto il nevone del 2012 quello del 2017 niente di tutto questo immagino. Beh al momento è una depressione che si formerà in maniera abbastanza repentina sembrerebbe che abbia una vita più limitata rispetto a quella del 2012 che ci aveva accompagnato per diversi giorni. Questa sembrerebbe lasciare spazio a un miglioramento già dalla giornata di domenica e anche di lunedì. Bene grazie a Marco Lazzari ci rivedremo allora sabato mattina ci diamo appuntamento nel cuore proprio di questa perturbazione. Grazie buona giornata e buon lavoro. Allora andiamo a leggere adesso i nostri giornali cominciamo dal Carlino di Pesero la fotonotizia per la truffa che ha subito Leandro Castellani con la sua famiglia vittima di un raggiro da 6 milioni di euro. Il titolo maxi truffa regista poi l'apertura acquaroli microzone arancioni marchi allarme contagio ad Ancona il governatore pensa a misure straordinarie per non perdere il giallo. Lo sport in prima repeggia l'allenatore il coach della VL noi outsider ma non veniamo con la bandiera bianca dunque via le final eight domani tocca appunto alla squadra della Carpegna Prosciutto. Poi vescovo positivo il vescovo di Fano Trasarti si attendono altri tamponi e ancora focolaio a scuola lo screening rivela solo un altro positivo siamo nella scuola elementare di via Fermi a Pesero e poi comincia il carnevale ma rimane ben poco Fano senza sfilata dei carri e la battaglia contro il progetto di Anas si ligate no alla New Jersey nasce un comitato. Il Corriere Adriatico la pagina principale dai bond alla guinza la sfida di CDP la sede regionale ad Ancona mentre vaccini l'arena non convince al vaglio altre ipotesi in alternativa alla vitifrigo per accogliere gli ultraottantenni. Sopra luoghi dell'area vasta i sindaci del Montefeltro scrivono alla regione per trovare sedi più vicine rispetto alla pala a Carnaroli di Urbino. Medico scrive a sua moglie sempre dalla prima una lettera sono al fronte prega per me e poi test alla Leopardi. Solo un bambino trovato contagiato a Fano il vescovo trasarti positivo sto bene dice lui e continuo a lavorare si ligate in sicurezza insieme alle barriere spuntano però anche le critiche. Poi il regista Castellani truffato per comprare lingotti d'oro sequestri della finanza quattro finiti sotto indagine promotore si era impadronito del suo patrimonio. Allora la notizia del giorno cari telespettatori di Fano TV qual è? E' questa che il governatore della regione Marche Francesco Acquaroli per cercare, tentare di mantenere il giallo in tutta la regione Marche sta pensando a microzone arancioni. Che significa? Significa che laddove la situazione dei contagi è particolarmente critica e qui ci riferiamo in modo specifico all'Anconetano dove c'è la variante inglese che sta spadroneggiando, ecco si sta pensando di arginare questa situazione con delle microzone arancioni. Tutto questo appunto per evitare di colorare tutta la regione d'arancione e quindi penalizzare le attività in particolare economiche. Il governatore Acquaroli dice vogliamo mantenere il giallo, ora verificheremo come intervenire le Marche nella lista nera della Svizzera. E arriva tra l'altro il carnevale, è chiaro che c'è poco da festeggiare e ho chiesto interventi per evitare assembramenti. Mentre il virologo iesino Massimo Clementi dice dovremo sempre più combattere con le varianti. Se non acceleriamo con le vaccinazioni dovremo sempre più combattere con le varianti come quella inglese che comunque non è più patogena, lo ricordiamo, delle altre e risponde bene anche al vaccino. Così dice appunto Massimo Clementi che sì è originario di Iesi però è ordinario di microbiologia e virologia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e direttore del laboratorio di microbiologia e virologia. In provincia di Ancona abbiamo quasi un centinaio di classi in quarantena ma Clementi dice per Clementi bisognerebbe tornare alla didattica a distanza quindi a casa solo nel caso di focolai tra studenti in cui la situazione considerato nel complesso i contagi dovesse tornare critica. Però in questa fase si sta tentando il tutto per tutto di mantenere gli studenti a scuola. Il contagio si allarga, dice, scrive anzi il Corriere Adriatico questa mattina Acquaroli ora valuta microzone arancioni, ritorno all'allerta per i positivi sintomatici increscendo nella provincia di Ancona, Ancona, Iesi e Castelfidardo sono le tre città, le tre località osservate speciali, diversi pronto soccorso sono in affanno. Fino all'ora di pranzo la giornata di ieri non aveva visto nubi particolarmente dense sopra il Palazzo della Regione, Palazzo Raffaello, anzi c'era fiducia sul fatto che anche la prossima settimana le Marche vedessero confermata la propria colorazione in zona gialla. Però poi una serie di notizie preoccupanti hanno fatto scattare un allarme al settimo piano di Palazzo Raffaello ed ora si valuta l'ipotesi di istituire microzone arancioni nei punti più critici della Regione. Il Governatore ha chiesto agli uffici un report dettagliato città per città così da poter decidere come muoversi, dati alla mano e nell'attesa, nella fotografia che sta emergendo in questi giorni è un po' così a tinte fosche. Ed ora c'è la questione anche dell'ospedale regionale di Torrette che da un paio di giorni insomma è in apnea, ieri aveva 15 persone nel pronto soccorso in attesa di essere ricoverate. La situazione che lo accomuna anche ad altri ospedali, tra cui quello di Fabriano per esempio che lo stesso da piano pandemico dovrebbe essere covid free, cioè senza pazienti malati di covid. E invece ci sono. Quindi insomma la questione poi c'è la questione delle scuole, anche la variante inglese come abbiamo visto ha fatto molte vittime, tra virgolette, anche tra gli studenti, con tamponi a tappeto a Castelfidardo, Pollenza, Tolentino. E insomma siamo un po', noi che siamo qui nella provincia di Pesaro Urbino, in questo momento siamo un po' circondati perché abbiamo la vicina Romagna che lo stesso ha un sacco di focolai di variante inglese, poi l'Umbria, la zona di Ancona, quindi noi siamo in questo momento circondati, parlo da provincia di Pesaro Urbino. La variante inglese, ecco qua poi il titolo, siamo circondati, ipotesi microzone arancioni, da una parte l'Umbria blindata, a nord di Rimini con un boom di casi e poi anche a sud di Ancona, epicentro, marchigiano del virus, quindi Ancona in questo momento è al centro, e poi Acquaroli che dice provvedimenti mirati per difendere appunto la zona gialla. Mentre quarantene sotto quota 3.000, la Svizzera ci mette alla porta. L'epidemia nelle Marche ha vissuto ieri un'altra giornata interlocutoria, con la sola eccezione di Ancona, che resta la sorvegliata speciale per il numero dei contagi. E poi salgono invece per effetto dei focolai nel Maceratese e nell'Anconetano le persone in isolamento domiciliare. E questa è la fotografia di quella che è la giornata delle ultime 24 ore, dove tra l'altro ci sono state anche delle vittime. Sono 8, di età compresa tra i 73 e i 95 anni, di cui una 91enne di Acqualagna nel Pesarese. I decessi dall'inizio della pandemia sono 2.078 in tutta la regione Marche. Allora, variante inglese, titolo a pagina 3 del Corriere Adriatico, variante inglese sollievo dopo i primi 153 tamponi, zero casi positivi a Tolentino, risultati confortanti dallo screening tra gli studenti nel Maceratese. E poi quarantena, questa è la prevenzione, a 14 giorni, quindi non più 10, 14 per il virus mutato. Quindi se uno becca il virus con la variante inglese, la quarantena è comunque di 14 giorni. Le linee guida adottate dal Ministero della Salute sono queste. Poi la fase 2, la fase 2 arruola anche professori e amministrativi. Il bacino dunque sbarca a scuola, la riunione del tavolo di coordinamento per la situazione epidemiologica negli istituti. Saltamartini pensa ad una corsia preferenziale per 33 mila tra insegnanti e personale ATA. Però insomma non tutti, lo vedremo tra poco, sono contenti perché si sentono con questo vaccino destinato ai professori e al personale ATA, che non è il vaccino Pfizer, è un altro vaccino, AstraZeneca, insomma è un vaccino che non piace molto, anche perché ha avuto una cattiva pubblicità, dicono noi siamo in qualche modo, a noi ci danno il vaccino di scarto, ma non è così. Più della metà dei positivi sono in provincia di Ancona, anche di nuovo il Corriere Adriatico, l'incidenza al 18%, i guariti salgono verso quota 50 mila. Ecco qua, siamo a pagina 9 del resto del Carlino. A noi il siero peggiore, l'ira dei prof e degli agenti. Gli agenti sono quelli di polizia, delle forze dell'ordine, ma il Ministero assicura, dice AstraZeneca evita i casi gravi. La circolare del Ministro Speranza, che dice il composto di Oxford, cioè AstraZeneca, protegge al 100% dal rischio ricovero. La seconda iniezione dopo 12 settimane addirittura. Come vedete ogni vaccino ha tempistiche, è diverso dall'altro, e questo AstraZeneca è quello che forse ha avuto, ripeto, la presentazione peggiore. Subito qualche dubbio, soprattutto per chi aveva più di 55 anni. E quindi insomma, poi la gente fa presto a dare giudizi, quindi a etichettare una cosa non buona piuttosto che altra. Quindi adesso c'è quest'idea che AstraZeneca non funziona in granché, ma non è così. E comunque evita i casi gravi, come dicono appunto dal Ministero. Intanto sempre sui vaccini. L'Europa fa autocritica, ottimismo eccessivo e troppi ritardi. La von der Leyen dice sottovalutare le difficoltà legate alla produzione di massa. E quindi questa è un po' la pagina che, a pagina 9 del resto del carino, fa la situazione sui vaccini in generale. Poi, invece, tornando a Pesaro, la notizia importante, secondo me, è che partirà questa sperimentazione, parte questa sperimentazione degli anticorpi monoclonali dei quali abbiamo parlato recentemente, a Marche Nord, all'ospedale di Pesaro San Salvatore. Cioè, l'ospedale si candida. Dopo l'ok dell'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, la Regione si sta organizzando. E il San Salvatore è in prima linea. Biancani dice stabilire le direttive per utilizzarli. Mentre l'appello di Michele Avitri, consigliere regionale del PD, per l'entroterra, Avitri dice il siero per chi ha più di 80 anni, servono più punti però per la vaccinazione. Dunque è urgente, secondo Avitri, allargare la rete dei punti di vaccinazione per chi ha più di 80 anni. Cambiamo argomento, cambiamo pagina. Pagina 3 del resto del canale di oggi. Roberto Damiani scrive del raggiro, del raggiro da 6 milioni di euro, a cui è rimasto vittima Leandro Castellani. I fanesi lo conoscono, non solo i fanesi, ma tutta Italia lo conosce, perché è un regista, un regista cinematografico e televisivo famoso. Un falso consulente gli ha sottratto praticamente tutto il patrimonio. La Guardia di Finanza riesce a sequestrare una parte delle quote azionarie soffiate al regista, spariti però soldi e lingotti d'oro. Quattro gli indagati per truffa e appropriazione in debita. Era stata sottratta anche la proprietà dell'albergo diffuso di Monte Maggiore. Allora, scrive Roberto Damiani, nel giornale di questa mattina, aveva tutto, atti con il centro di Roma, conti correnti milionari, società immobiliari, dipinti del Cinquecento di scuola Michelangelesca, persino lingotti d'oro. Un patrimonio di almeno 6 milioni di euro acquisito in 40 anni di regia cinematografica e televisiva, che un amministratore di beni ha fatto sparire nel giro di un anno e mezzo. E per riuscirci aveva garantito alle vittime una rendita annua di 100 mila euro, a patto di avere mano libera sui conti per fare investimenti. E loro, cioè Castellani, Leandro e la moglie, si sono fidati. A pagarne le conseguenze è stato il notissimo regista televisivo fanese, Leandro Castellani, oggi 88enne, costretto a vivere a Fano in una casetta al fenile di 70 metri quadrati con la zona notte accessibile solo dall'esterno. Poi c'è tutto il racconto, tutti i particolari, nel giornale di oggi. Intanto la moglie Mare Grazia racconta la vicissitudine che ha stravolto la loro vita, ci ha svuotato i conti e fatto vendere tutto. Viviamo in 70 metri quadrati, ci siamo fidati di chi è stato, si è approfittato polverizzando i nostri risparmi. Ora è sparito, ma lo aspettiamo al processo. Anche il Corriere Adriatico, tutta pagina, si occupa di questa vicenda. Il regista Castellani, titolo truffato per 3 milioni, depredato di ogni bene insieme alla moglie. Il noto cineasta fanese era girato da un procacciatore, quattro indagati, la finanza recupera parte del patrimonio. Mentre sotto, ottantenni in bicicletta travolta, altri due schianti, tre persone sono state trasportate all'ospedale di Fano, ieri in poco più di tre ore e tutte a causa di incidenti stradali. Il primo alle 9.30, all'incrocio fra Viale Primo Maggio e Via Arzilla. Il Vescovo di Fano positivo, si attendono altri tamponi, i preti della Casa del Clero hanno fatto il test, ma non sanno ancora l'esito. Nessun altro, tra parroce e personale della diocesi, è malato. Gli uffici di Curia sono regolarmente aperti, attendendosi alle norme protocolli. Il bollettino medico di Ramato ieri parla di una situazione clinica stabile, senza cambiamenti degni di nota. Ha sintomi lievi, viene attentamente seguito da giorni, da quando il suo segretario particolare, Don Luca Santini, ha manifestato la malattia prima di lui. I primi tamponi di Trasarti, però, erano risultati negativi. Il segretario Don Luca sta affrontando il Covid stando a casa, seguito dai medici e attendendosi, ovviamente, ai protocolli. Sempre sulle condizioni del Vescovo, a pagina 22 del Corriere Adriatico, Sto Benino e lavoro in episcopio. Trasarti positivo al Covid, rassicura il Vescovo ha sintomi lievi con ossigenazione regolare. La Curia esclude un'emergenza. Sto Benino oggi non ho neanche la febbre. Ieri avevo alcuni gradi sopra 37, per il resto avverto i sintomi comuni, un po' di tosse e mal di schiena, ma sono qui che lavoro. Così, appunto, dice il Corriere Monsignor Trasarti. Oggi, dicevamo, è anche la giornata del malato. Nell'occasione la diocesi di Fano ribadisce la vicinanza pastorale ai sofferenti. La celebrazione della giornata del malato, il prossimo, questo febbraio, 11 febbraio, continua, dice la comunicazione della diocesi, ci vedrà ancora più impegnati nel pregare, nell'affrontare con maturità questo tempo, che consideriamo sempre e comunque nelle mani di Dio e quindi capace di offrirci la possibilità di essere migliori mettendo al centro la persona e non il profitto. Il Carnevale, questo è tempo solitamente dedicato alle manifestazioni carnascialesche, quindi alle feste. Noi, come città di Fano, abbiamo questo Carnevale antichissimo, datato 1347, che però quest'anno è ovviamente saltato. Carnevale annullato accadeva solo in guerra, racconta Silvano Clappis, studioso della manifestazione. La cancellazione a causa di una pandemia è un evento più unico che raro nella storia della manifestazione. Mentre dai carristi, Matteo Angherà, artista della Cartapesta, dice fare i carri a luglio non sarà così facile, c'è questa ipotesi di fare il Carnevale nei mesi estivi. Se qualcuno di noi risultasse positivo, si fermerebbero i lavori e dunque pensare di arrivare a luglio con i carri finiti sarà un problema. Comunque è un periodo, certamente, diciancherà pieno di incognite. Elisa Bilancioni, invece, coordinatrice del Consiglio dei Bambini, parla dell'aspetto psicologico. Beh, per la Bilancioni zero traumi, ma aspettano i bambini tutti quanti l'estate. E anche noi aspettiamo l'estate. Mentre Gianfranco Mazzanti, ex presidente della Carnevalesca, dice c'è bisogno di pubblico. E dunque non ha senso l'online, non ha senso tutto quello che si sta facendo in questo momento, cioè perlomeno di mantenere vivo perlomeno il ricordo, fare qualche cosa di alternativo. E l'online è l'unica cosa che si può fare. Ma, sappiamo, Mazzanti è un po', insomma, al vecchio stile, quindi queste cose evidentemente non gli garbano. La complanare era un impegno avvallato da Regione e Ministero, prescrizioni per la terza corsia della 14, il Movimento 5 Stelle scovagliatti del 2006, un'opera inghiottita nelle nebbie della politica. Sotto il Carnevale si riscopre dolce nel nome di Dante, presentata la torta divina, mentre alle 21 si dà il via alla settimana grassa. E allora, se Riccardo in regia mi dà una conferma, volevo chiederti com'è il palinsesto di questa sera alle 21, e se mi dai conferma che questa sera inizieremo con, appunto, questa settimana grassa sul nostro canale in esclusiva. Grazie, la fine puntata magari trova l'appuntamento deciso di stasera. Bene, grazie. Allora, intanto, da Fano, il resto del Callino, un milione e mezzo per mettere il Metauro in cassaforte, interventi anche sul torrente Arzilla per scongiurare il rischio di esondazioni ed allagamenti, inizio dei lavori previsto per il prossimo inverno. mentre sulla pagina di Senigallia la tragica notizia della morte di Maurizio Liverani, lo scrittore che, mentre sale su un taxi, viene stroncato da un malore, il 92enne doveva andare in ospedale, rianimazione tentata per quasi un'ora. L'episodio avvenuto ieri mattina in corso 2 giugno era stato anche giornalista e regista. È stato colto da malore lungo il corso 2 giugno ed è morto ieri mattina. Scrittore, giornalista, regista, aveva 92 anni. Un taxi che personalmente aveva chiamato, l'ha raggiunto sotto casa, doveva andare in ospedale per una visita, ma appena il tassista ha aperto la portiera per farlo accomodare, si è accasciato tra le sue braccia e purtroppo non c'è stato niente da fare. E ovviamente di questo parla anche il resto del Carlino, la pagina 21 di Senigallia. Malore mentre passeggia, muore sul corso inutili soccorsi, al 92enne Maurizio Liverani che si è accasciato tra i passanti mentre rientrava a casa. Qui la dinamica, vedete, è un po' diversa. Comunque, vabbè, più o meno. Sul posto anche la polizia, un passato da regista e giornalista, era amico di Fellini e anche di Alberto Sordi. Da Senigallia, manutazione del fiume Misa, conclusi i lavori, adesso le visite, mentre a Montemarciano niente esche avvelenate, rimossi dunque i divieti. A Urbino invece va in pensione, lo storico dottore, lascia il servizio, Roberto Rossi, ha scelto di salutare i suoi tantissimi pazienti attraverso una lettera e lo fa appunto essendo stato medico dal 1977, inizialmente d'ospedale, poi condotto, ma anche e per lo più di medicina generale. E poi la grande fortuna che ho avuto, dice lui, scrive, nella vita è stata di fare il lavoro che mi piace. Col passare degli anni l'ho apprezzato sempre di più, sia perché si migliora nelle capacità, sia soprattutto perché ci si avvicina alla parte più intima delle persone. E vista la pandemia, dice ancora il medico Rossi, vista la pandemia dovrei dire di essere contento, ma facevo una cosa che amo, quindi non lo sono, cioè non lo sono, non lo sono l'idea insomma di andarsene. E quindi la pagina invece 20 di Urbino del Corriere Adriatico, riapro l'ambulatorio di Pieve di Cagna, il dottor Marchi rassicura tutti gli assistiti, il collega Rossi va in pensione, locali chiusi solo per la pandemia, vaccinarsi è un dovere. E poi nel giorno del ricordo si è svolta la commemorazione dell'ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, di cui ricorreva l'anniversario della morte, morte che avvene nel 1944. Siamo sulla pagina della Valcesano, da Pergola raccolta fondi anti-Covid, nuove risorse in ospedale con 25 mila euro acquistati apparecchi per la riabilitazione, la sindaca di Pergola è soddisfatta. E poi Fano, ancora Conad, via da Ponte Sasso, dilaga il malumore, si trasferisce a Marotta, ma Pagnetti rassicura, qui arriverà un altro supermercato. Metauro invece, gli argini da consolidare, la regione ora stanzia un milione e mezzo di euro, l'assessore Guzzi illustra le opere contro il rischio di esondazione, intervento anche sul torrente Arzilla, i primi lavori previsti entro l'anno. I cinghiali in giardino, a Fossombrone ci sentiamo in pericolo, lo sfogo della moglie dell'ex sindaco di Sant'Ippolito, qui nessuno ci dà ascolto. Dopo la denuncia fatta pubblicamente dell'invasione dei cinghiali che scendono dalle cesane nel nostro giardino, distruggendo di tutto e di più, fino a demolire ogni cosa che trovano sul loro passaggio, c'è stato un sopraluogo dei carabinieri forestali, ma la situazione, dice, è rimasta immutata e noi non ne possiamo più, dice la signora Rita, consorte di Fabio Londè, noto ristoratore ed ex sindaco di Sant'Ippolito. Da Vallefoglia, invece, si discuta ancora oggi sul Corriere di Biodigestore, adesso il Comune chiede la valutazione d'impatto, già lo ha fatto Tavuglia, l'esecutivo dice vogliamo però altri investimenti per l'ambiente. Intanto, sempre da Vallefoglia, impianto sovradimensionato, ricadute irreversibili, lupus infabula contro il progetto a Talacchio, richiesta improcedibile. Mentre da Fabriano, la Pasqua arriva con una benedizione fai da te. Il Vescovo Massara, Francesco Massara, sta pensando di consegnare alle famiglie preghiere, boccette con l'acqua benedetta per evitare i contatti. Sapete, il prete, così come l'abbiamo più o meno sempre visto negli ultimi anni, che viene citofona, bussa, entra in casa per benedire, insomma, l'appartamento, questa cosa, così come l'anno scorso, quest'anno, non sarà possibile. Allora, il Vescovo di Fabriano ha deciso di consegnare questa boccetta con dentro l'acqua benedetta e le preghiere, i riti, insomma, che ci sono da fare con le preghiere e in famiglia si può fare la benedizione tranquillamente da soli. Quindi bloccate le attività nelle parrocchie, fatta eccezione per le messe. Sempre da Fabriano, senza mascherina al supermercato, scatta la rissa, quattro denunciati. Chiudiamo con lo sport, la Lube, che saluta il primo posto, perde a Perugia 3 a 0 il derby di Champions e lascia il Via Libera agli Umbri. Allora, Riccardo, siamo in chiusura, 7.29? Sì, abbiamo l'evento di apertura stasera con il Sindaco che consegnerà le chiavi al Sindaco del Carnevale. Bene, quindi abbiamo questo appuntamento sul canale 17. Adesso invece c'è la messa in diretta da Loreto. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie per averci seguito.